Un corso all'impegno civico-sociale per guidare alla formazione di un programma territoriale. È stato questo il tema affrontato nel corso di un interessante incontro presso l'Istituto Ricciardi di Piano di Monteverna organizzato con il patrocinio di diversi comuni e voluto dall'Associazione Alto Casertano di Riardo, presieduto ad Antonio De Pandis, che alla nostra Maddalena Roberti ha spiegato le finalità dell'evento. Presidente, allora può dirci la finalità di questo corso e a chi è rivolto? Sì, allora il corso all'impegno civico-sociale è rivolto a tutte le persone che vogliono acquisire una maggiore consapevolezza dell'impegno nell'ambito della sfera civica e sociale. Oggi soprattutto credo che ci sia la necessità importante con le varie fasi di trasformazione della società di acquisire una maggiore consapevolezza attraverso questo impegno. Si articolerà in un sistema modulare ed è rivolto, ripeto, a tutti da 18 senza limiti di età perché è un corso di approfondimento di tematiche e attualità con relatori di eccellenza, dico semplicemente alcuni per renderci conto di cosa parliamo, di magistrati di Cassazione, di docenti universitari, di consulenti di vari ministeri e quindi credo che sia una espressione di alta formazione. Presidente, perché è stata proprio l'associazione ad organizzare il corso? Noi ci siamo posti da sempre come finalità, come mission dell'associazione, quello di aiutare a contribuire questo impegno. Non a caso siamo un'associazione socioculturale che vuole fornire quanti più contributi possibili alle persone di conoscere i meccanismi della trasformazione della società e anche dei genti locali e dello Stato. Presente anche il sindaco di Pianne di Monteverna Stefano Lombardi che ha fatto gli onori di casa e con lui i prestigiosi relatori. Ad introdurre i lavori il direttore dell'Istituto Daniele Ricciardi. Da Pianna di Monteverna è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it